Allora io sono ragazzi, sono ragazzi, sono ragazzi, siamo pochi, siamo pochi. Noi sappiamo che all'inizio bisogna inserire il periodo. Noi conosciamo il periodo, grazie, va bene. Noi non ci siamo, non ci siamo. Noi non ci siamo. Grazie, ci siamo. Noi non ci siamo, non ci siamo, ma anche la cosa che andiamo a cuciere adesso. Presidente, 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 le piace questa realizzazione nelle casette, è un commento su queste casette, sono le prime. È una, naturalmente è una cosa che da una parte ci induce all'ottimismo perché è stato fatto un lavoro straordinario in tempi molto rapidi e dall'altra parte, come sanno bene il Sindaco, Presidente della Regione, il Commissario e tutte le autorità ci spinge ad essere veloci dappertutto perché è un esempio che se riusciamo a moltiplicarlo e a realizzare in tempi rapidi nelle altre realtà che ne hanno bisogno dimostra che si può dare una soluzione temporanea di grande qualità. Mi fa veramente piacere, anche se naturalmente è un inizio, però è un inizio che ci dà un po' di speranza. A chi critica la lentezza nel tutto? Di fronte a una cosa come questa c'è semmai di apprezzare la rapidità e sulle lentezze che certamente ci sono, dobbiamo lavorare, vi assicuro che ci stiamo lavorando, che il Sindaco, la Regione e il Governo ci stanno lavorando dentro e attento. Grazie. 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 Grazie.